Ben tornati al Salotto di Simona su Rieti Life. Oggi con noi c'è Gianluca Gizzi. Ciao Gianluca. Buongiorno. Bello averti qui perché ci puoi raccontare delle cose che non sentiamo indubbiamente tutti i giorni. Perché? Perché la tua vita si estende da una realtà di circa 2500 anni, mi dicevamo, ad una macchia molto più estesa che a livello, se me lo consenti, mondiale. Ma scendiamo nei dettagli gradualmente. Gianluca Gizzi è sindaco di Leonessa, neosindaco da quasi un anno. Da maggio, da maggio del 2019. Abbiamo vinto le elezioni lo scorso maggio ed è speaker, conduttore, giornalista, scusami, presso un network importante che si chiama Radiodimensione Suono. Quindi conosci le informazioni in tanti aspetti, in tanti dettagli. Ma torniamo in quel di Leonessa, paese dove ci si conosce un po' tutti, proprio perché ha anche il suo grande picco di estensione. Magari nel periodo estivo mi dicevi di circa 40.000 persone. Arriviamo, sì, arriviamo a picchi di 40.000 presenze durante l'estate. Quindi passiamo da una realtà di 2500 residenti fino a 40.000. Però poi il grosso viene proprio rappresentato dalla personalità, dalla presenza costante dei 2500 abitanti. Beh sì, poi alla fine Leonessa è quei 2500 che tutti, che 12 mesi l'anno stanno lì e che devono poi pensare non solo a se stessi, ma poi anche a chi arriva da fuori, perché Leonessa è anche un'attrattiva per chi vuole venire da noi a passare, a trascorrere un weekend, un periodo di relax. E quindi ecco, anche gli stessi residenti devono vivere un po' su due livelli diversi. Certo, mi incuriosisce la tua doppia figura professionale, proprio perché c'è tanto da fare all'interno di una redazione di un network come Radiodimensione Suono. Però poi logicamente, essendo un amante indubbiamente del tuo territorio, ma anche della politica, hai sentito di poter dare un contributo e penso che questo sia stato apprezzato dai tuoi concittadini. Beh, visto come sono andate le elezioni, sì. Direi proprio di sì. È logico che l'esperienza, questi vent'anni di professione giornalistica, ti aiutano anche a riuscire a vedere le cose contemporaneamente, con occhi diversi e con sensibilità diverse. L'esperienza fatta anche con la politica, sia nazionale che locale, perché per un periodo mi sono interessato anche di politica locale come professione a Roma, mi ha messo in contatto con vari livelli di amministrazione. Quindi diciamo che si arriva sempre e comunque impreparati a fare il sindaco, perché è un'esperienza coinvolgente a 360 gradi, avvolgente, quindi è ben diverso che viverla dall'esterno. Però comunque un minimo di esperienza nei rapporti con le amministrazioni mi ha aiutato da questo punto di vista ad affrontare questa avventura, senza dimenticare poi la squadra, la squadra dei giovani. Certo, quella penso sia fondamentale. La squadra dei giovani che è fondamentale. Io adesso al di là dell'esperienza di Leonessa penso che sia fondamentale un po' per tutti i paesi, le piccole realtà come la nostra, cominciare a puntare decisamente sui giovani. Per cui i giovani possono, dobbiamo accettare errori da parte dei giovani, perché è normale, però dobbiamo aiutarli, dobbiamo portarli avanti, perché dobbiamo consegnare loro le chiavi del futuro. Certo, però io penso che con te si possa parlare, mi permetti di darti il tuo giorno? Assolutamente, assolutamente sì, non c'è nessun problema. La prospettiva è importante, adesso che tu sei il primo cittadino di Leonessa penso che tu possa anche capire bene cosa significhi aspettarsi dai cittadini il contributo. E penso che le chiacchiere che facevamo prima di aprire questo nostro appuntamento del salotto ha collaborato moltissimo gli abitanti di Leonessa con le tante iniziative, le cose da fare, le proposte. E poi penso che immancabilmente vi siano anche delle richieste. Di cosa c'è bisogno principalmente in questo momento? Ma nelle piccole come nelle grandi realtà poi alla fine le esigenze del cittadino sono sempre le stesse, sono i servizi, i servizi che ultimamente purtroppo con la riduzione delle devoluzioni da parte dello Stato nei confronti degli antilocali, quindi mancano risorse, sono sempre di meno, diventa un po' più complicato. E qui è fondamentale coinvolgere la popolazione, perché spesso e volentieri la popolazione si deve rendere conto che è anche parte attiva nell'amministrazione di una cittadina, soprattutto di una piccola realtà come la nostra. Noi uno dei primi atti che abbiamo fatto appena ci siamo insediati è stata l'adozione di un regolamento per il volontariato civico, che serve appunto a coinvolgere la popolazione nel limite possibile, logico, e senza andare ad intralciare quello che è il lavoro del dipendente pubblico, perché poi bisogna anche rispettare le aree di competenza, però possono aiutare e si rendono anche conto di quanto sia complicato poi per un comune, per un ente locale fornire quel tipo di servizio. Il costo, ma il problema stesso dell'organizzazione, della scarsità del personale, perché poi alla fine tutti quanti noi comuni, tutti i piccoli comuni, fanno i conti, anche i grandi, fanno i conti con la mancanza di personale. Certo, ma a noi ci interessa principalmente che Leonessa sia sempre facilmente raggiungibile, specie nei periodi invernali, perché il tempo chiaramente ci dà le famose, come dire, problematiche invernali, ma quando c'è possibilità non ne facciamo mai a meno. Siamo tutti reduci da una visita, se non altro, per la grande festa, che quest'anno ha compiuto il suo trentesimo anno di attività, di quel tubero meraviglioso che si chiama Patata, che è tanto rinomata in quel di Leonessa. Avete lavorato tantissimo anche quest'anno? Abbiamo lavorato e quando dico abbiamo intendo tutta Leonessa, perché anche lì volontariato è fondamentale. Leonessa si è resa conto di essere Leonessa, e quindi abbiamo lavorato tutti insieme, preparato questa sagra, realizzato questa sagra. C'è stata la nuova Prologo che anche seppur con poco tempo a disposizione è riuscita a gestire la cosa. I Leonessani che sono coinvolti, ma il volontariato c'è sempre stato. Io quest'anno l'ho vissuto da vicino, da parte, diciamo, quasi parte attiva e ho visto veramente una grandissima partecipazione. La cosa che mi ha fatto molto piacere, proprio perché parliamo di questa prospettiva futura, cioè bisogna cominciare ad investire veramente sul futuro, non solo a parlarne, no? Spesso si parla ai giovani, le generazioni, noi ci dobbiamo cominciare ad investire e dobbiamo cominciare a dare responsabilità. Io ho visto molti giovani attivi. Esatto. E questa è una cosa che mi riempie il cuore, ma che soprattutto mi fa sperare per il futuro. Sì, perché sono pieni di energia. Energia, voglia di fare, inventiva, creatività. Hanno bisogno di sperimentarlo, hanno bisogno. Hanno bisogno anche di sbagliare, io dico che bisogna anche dargli la possibilità di sbagliare. Di venire la creatività, no? E poi c'è bisogno proprio del folclore, se vogliamo anche dell'errore, come stai dicendo, perché fa parte di questo nostro profilo umano che forse è la cosa più interessante. E anche perché sono territori, i vostri, leonestri a questi paesi che stanno in montagna, che sono bellissimi, hanno il fascino di una storia antica, profumi che non vogliamo assolutamente vadano via, che meritano di essere visitati. E quindi il turismo, questa grande risorsa, questa bellissima risorsa, che vi regala da sempre un'ammirazione, un'attenzione veramente speciale, io vi auguro possiate mantenerla inalterata nel tempo. Ma appunto, oltre al primo cittadino, che è così brillante e coinvolto, credo riguardi soprattutto la popolazione che debba partecipare assiduamente. No, no, ma la popolazione risponde bene, partecipa, ecco ripeto. È un orgoglio essere un abitante di Leonessa, non è da tutti, è questo che voglio dire. Leonessa, il leonessano deve sentire l'orgoglio di appartenere a quel territorio. Esatto. E da noi c'è, questo orgoglio dell'appartenenza c'è. Anche perché ha un suo atteggiamento, ha un suo orgoglio, è scruta, osserva anche chi viene da fuori, e chi viene da fuori logicamente è invitato ad osservare, ecco, quella tranquillità, quel rispetto, quella sacralità di un luogo veramente protetto. Invito chiunque viene da fuori a visitarci, ovviamente invito tutti a visitare Leonessa, anche ad osservare il leonessano. Esatto. L'orgoglio per l'appartenenza, ma non un'appartenenza sterile, fine a se stessa, un'identarietà spicciola. È proprio il concetto del, questa è la nostra terra, questo noi offriamo a chi viene da fuori. E lo proteggiamo, perché loro sono ben consapevoli che a qualche decina di chilometri insomma ci sono realtà un pochino più alterate, umanamente parlando. E qui ben venga la tua esperienza, che appunto c'è quasi una sua bipolarità da questo territorio così protetto, sacro, a qualcosa che purtroppo viene profanato quotidianamente da una violenza che sta proprio nel tormento di un'agitazione metropolitana che difficilmente insomma può trovare la sua pace. Sì, ma ecco, io nel corso di questo... Sto parlando della capitale. Sì, esatto, che poi ingoia un po' tutto quello che è intorno. Però ho notato in questi anni di professione che... Noi adesso parliamo di Roma, città metropolitana, ma possiamo parlare di Milano. Assolutamente. Che nel corso degli anni il suo Interland l'ha praticamente fagocitato. però sto notando, sto notando soprattutto nelle... Vabbè, vabbè, guardando le notizie di cronaca che compaiono tutti i giorni, l'esperienza diretta del dialogo con le persone, sto notando una riconquista dei piccoli spazi esterni a queste grandi metropoli. Quindi c'è un tentativo di... È logico che a questo punto questi piccoli centri come Leonessa devono cominciare ad attrarre chi vuole fuggire... Con il massimo rispetto. ...dalla grande città. E deve offrire che cosa? Deve offrire quel ritorno a una natura che ha il rispetto dei tempi. Io dico sempre rispetto delle stagioni, no? C'erano i nomadi, c'era una canzone dei nomadi che parlava del rispetto delle stagioni, degli tempi, delle stagioni. Dobbiamo tornare a quello. La nostra vita ormai è H24. La luce artificiale domina dappertutto. Invece rientrando nel paesaggio rurale, in questi nostri piccoli centri che sono poi la vita del paese, nelle cosiddette aree interne come vengono chiamate in politica, noi lì riconquistiamo questo rapporto con la natura e con i suoi tempi. Il buio è il buio. La luna rappresenta la notte, il sole rappresenta il giorno. Quell'antica appartenenza all'essere umano. Esatto, quel rapporto diretto con la natura che non è più un rapporto di odio, ma è un rapporto d'amore, di fratellanza. Per cui la natura ci dà i tempi. E anche di ascolto. E di ascolto. E noi dobbiamo imparare a riascoltare. Ecco, a ricominciare a riascoltare. Quando ti ascoltiamo su RDS? Io, vabbè, in questo momento un breve periodo di stop per seguire un po' più da vicino le vicissitudini del comune, però io solitamente sto... Noi lavoriamo su turni, quindi... Certo. Vado in onda con il notiziario insieme ai miei colleghi e andiamo in onda dalle 6 del mattino fino a mezzanotte. Posso chiederti... Quali sono state, certamente, quali sono state... Beh, la vostra è anche veramente una città che non dorme mai. Quali sono state le notizie che sono state particolarmente seguite con molta attenzione? Perché ci sono state tante cose, no? In questi ultimi tempi anche di questi grandi incendi in Australia che hanno fatto... Beh, noi abbiamo avuto abbiamo avuto una grossa attenzione innanzitutto per la politica nazionale italiana perché con il conte bis tutte quelle vicissitudini... Però voi vi potete portare un po' ovunque. C'è stato un attimo di crisi però poi fondamentalmente la gente si sente coinvolta per gli incendi in Australia che hanno veramente devastato il paese. Questa è l'ultima crisi internazionale Iran-Stati Uniti perché comunque all'inizio diciamo che le prime 48 ore sono state vissute come un rischio terza guerra mondiale. Un allarme. L'allarme è stato enorme. E poi abbiamo sempre il solito scorso l'allarme terrorismo internazionale che quando colpisce fa rivenire in mente tante disgrazie, tante tragedie e rinfocola quella paura che poi è l'essenza stessa del terrorismo perché il terrorismo vive di questo della paura di tutti i giorni. Infatti il notiziario ha una sua vibrazione molto legata alla tensione alla paura perché uno si aspetta sempre esternamente prima e c'è anche proprio questo ordine prioritario della notizia che parte proprio con la cosa più grave per poi scemare persone. Diciamo con la notizia che colpisce di più purtroppo. Spesso si parla del fatto che i giornalisti danno soltanto brutte notizie. Si è sempre detto che il giornalista dà cattive notizie. Non è quello. Il problema è che purtroppo quelle notizie soprattutto quelle sono pochissime le buone notizie che colpiscono perché spesso e volentieri fanno parte della quotidianità. Sono eventi che accadono quotidianamente che li viviamo come qualcosa di sereno. Le cose che non viviamo in maniera serena quelle colpiscono di più. Quindi purtroppo noi abbiamo disastri, tragedie che a volte è capitato in alcune occasioni di aprire il notiziario cioè la notizia d'apertura con una notizia pseudo leggera definiamola così che magari riguarda più la cronaca bianca. Ok. Diciamo che preferisco io tra l'altro. Certamente. Anche lì poi c'è una ognuno ha le proprie passioni. Certamente. C'è il cronacaro come si dice in Roma che è fissato per la cronaca nera e appassionato di la cronaca nera. Chi come me invece è appassionato sempre di politica è appassionato di cronaca bianca. Certamente. Tanto per fare delle distinzioni che... Però il vostro notiziario che spazia ci sono anche poi riferimenti a cose molto più soft. Sì beh noi abbiamo un'impostazione fondamentale un'impostazione dell'editore che coprire a 360 gradi la vita quotidiana. Quindi a questo punto nel nostro notiziario passiamo sì da notizie un po' più pesanti riusciamo anche ad arrivare a notizie più leggere definiamole così. Mi colpisce una cosa nel tuo modo di parlare il ritmo perché lo dicevamo prima la radio è una signora che non si perderà mai di vista e chi fa radio si sente e dare ritmo anche all'informazione o comunque al modo in cui gestisci le tue comunicazioni le tue informazioni è importante è importantissimo. È una parte fondamentale del rapporto con l'attualità radiofonica perché la radio devi tenere l'attenzione sempre viva. Sempre, sempre. Noi abbiamo quel famoso concetto che l'ascoltatore per 20 secondi ti segue superati 20 secondi devi essere tu capace a tenerlo e allora il ritmo serve a quello serve a non far mai scendere l'attenzione dell'interlocutore. È vero quindi c'è bravura qualità esperienza esperienza la bravura lo lascio dire agli altri io parlo di esperienza perché comunque l'esperienza radiofonica io tra l'altro la consiglio ecco se c'è qualche giovane che vuole vuole iniziare a un approccio anche con il giornalismo non solo con i media ma anche con il giornalismo in sé io lo consiglio un'esperienza radiofonica perché ti impara ad improvvisare cioè impari ad improvvisare ti insegna a raccontare senza avere le immagini di sostegno esatto perché poi è questa esatto ma proprio questo discorso del ritmo ti dà la possibilità di capire cosa sia l'ascolto fondamentalmente non è un caso che si debbano indossare le cuffie chiedo scusa per il mio raffreddore che non va via ma anche io ho la voce un po' bassa allucinante sei stata anche tu una vittima di un forte raffreddore di un influenza siamo in tanti quindi ci possiamo consolare tutti quanti a vicenda Gianluca è stato veramente un piacere io penso che tu sia un privilegiato hai la possibilità di fare tanti esperimenti dentro di te tante informazioni da tanti ambiti diversi ritmi diversi e poi il tutto che si ricollega a un grande canale che sei tu quindi sono felice per il leone sani che abbiano te come riferimento e come esempio ma io ringrazio anche loro e mi hanno dato la possibilità di vivere queste esperienze da un punto di vista umano vi siete capiti certo ci stiamo regalando a vicenda un'esperienza umana molto molto bella interessante mi raccomando fate tante cose perché leone è meravigliosa e tanti esseri umani hanno bisogno di venirvi a trovare quindi calamitate l'attenzione che potete fare un sacco di cose belle stiamo cercando di limitare al minimo gli errori che poi però sono fondamentali perché se non si sbaglia non si impara siamo umani quindi no poi se non si sbaglia non si impara questa è parte anche della professione del giornalista quando inizi con la gavetta di errori se ne fanno diversi cerchi di fare meno errori possibili cerchi di farne gravi il meno possibile quindi stessa cosa è questa esperienza politica infatti poi un giorno potremmo dire ricordate all'inizio abbiamo fatto quella cosa che non fu proprio non fu proprio successo però guardate adesso dove siamo arrivati proprio perché c'è stata la collaborazione di cui avevamo bisogno e poi ecco sui giovani puntiamo molto sui giovani quindi diamo la possibilità ai giovani di sbagliare sì 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 e adesso non parlo per me perché mi definisco sempre un presunto giovane ma parlo per chi sta con noi in amministrazione diamo la possibilità di farlo ogni tanto qualche errore perché se no non impareranno mai e soprattutto perché dobbiamo affidarci a loro sono d'accordo sono d'accordo e soprattutto grazie per aver trovato il tempo di essere venuto qui al salato di Sivona su Rieti Life è stato veramente un piacere buon lavoro grazie mille alla prossima Gianluca Gizzi buonasera buon pomeriggio